Ed ecco Andrea Cisco, il castigatore del Pescara all'Euganeo lo scorso anno, tutti ricordano quella partita con il Padova, Pescara in vantaggio per 2-0, al novantesimo poi due gol del Padova, il primo gol, il gol che ha dato il via alla rimonta, è stato tuo, un gran gol da 30 metri, pallone all'incrocio dei pali. Sì, mi ricordo molto bene quel giorno, è stato il mio esordio in Serie B col Padova, sono giocato un bel jolly e niente, chissà che mi sia fatto notare a Pescara, Pescara ha deciso di puntare su di me quest'anno e sono molto contento di questa nuova esperienza, non vedo l'ora inizio il campionato. Arrivi a Pescara in una squadra che punta in alto dopo lo scorso anno, dopo aver sfiorato la finalissima playoff? Sì, sicuramente ci sarà una bella posta in palio alta e gli obiettivi saranno in base ai nostri risultati e speriamo bene. Dopo alcuni mesi con il Padova, seconda parte di campionato con l'Albisola lo scorso anno, adesso arrivi a Pescara in Serie B, questo potrebbe essere per te un anno importante per la tua carriera? Sì, speriamo che sia un anno importante per la mia carriera e sono a disposizione del mister, ci sarà tantissima concorrenza ma come giusto che sia per un club che punta alla Serie A è normale che ci siano tanti giocatori forti e punto a prendere le migliori cose di tutti i compagni per crescere e avere un buon bagaglio personale. Le caratteristiche tecniche di Andrea Cisco? Penso che i miei due punti forti siano attacco alla profondità e l'uno contro uno. Dopo dieci giorni di lavoro qui a Palena, le impressioni sui compagni di squadra, sull'ambiente e anche sul tecnico Luciano Zauri? Mi trovo benissimo e in questi primi giorni mi sono adattato molto bene, mi trovo molto bene con i compagni soprattutto più esperti ma perché mi hanno subito fatto trovare a casa diciamo. Il mister mi piace molto perché mi considera e mi spiega bene dove sbaglio eccetera e sono contento.